Ciao a tutti amici del Salto e Cuorde e benvenuti in questo nuovo video emozione! Insomma voglio condividermi una cosa che mi è successa. Domani nuova vita, oggi ultimo giorno al lavoro. Sì, si cambia vita, si cambia lavoro, ogni tanto ci vuole. Cosa ci entrerà per now? Lo scoprirete dopo. Intanto ho qui la lista delle persone da ringraziare nel mio OnePlus e praticamente sono andato a tagliarmi i capelli perché domani inizierò la nuova esperienza lavorativa perché era una via di mezzo tra un cactus e una rubigna e quindi ho dovuto necessariamente tagliarmi, tosarmi i capelli, dite un po' come volete e sono andato a casa intorno alle 7, mi ha suonato il corriere no, anzi, mi ha suonato qualcuno, mi dico ma che cavolo è alle 7? Apro, c'è il corriere, c'è la consigliera che dice ah ma non hai lasciato il nome, ma c'è scritto sull'etichetta che cosa devo lasciare anche il numero della carta di credito? vabbè, sarei fatto che io non sapevo di aver, in realtà non ho ordinato nulla ma sono stati colleghi, gli ex colleghi, anzi da adesso sono ex colleghi che mi hanno mandato un regalo da Prime Now ma come c'era all'interno? c'è un caricatore della Belkin bellissimo, utilissimo, grazie mille veramente ah, da 20 watt 4,2 ampere ore alla faccia, davvero bello lo proveremo e tra l'altro vi dirò come funziona lo lasciamo un attimo da parte e mi è arrivato anche questa super agenda gigantissima che serve per prendere appuntamenti metterci biglietti da visita metterci l'agenda e chi ne ha più ne metta vabbè, mi ha fatto veramente piacere ho voluto fare questo video per condividere anche un po' con voi questa emozione che secondo me è una cosa bella perché ho trovato fortunatamente sempre degli splendidi colleghi mi sono trovato molto bene in azienda e adesso c'è la lista magica da fare per i ringraziamenti allora, ringraziamo Eleana ringraziamo Lili ringraziamo Fiona ringraziamo Antonella grazie Antonella Alessandra Michele Rocco Lamberto Antonio Giancarlo Luca Stefan Michele Fabrizio e Federico grazie veramente tanto ragazzi un saluto particolarissimo particolarissimo va a Federico e Fabrizio che erano i miei due colleghi più stretti dell'azienda in cui ho lavorato fino a qualche ora fa e veramente veramente grazie di cuore mi mancherete non mi mancherete ma certo che mi mancherete ragazzi mi sono trovato veramente molto molto bene e un'altra persona che tendo a ringraziare in modo particolare è Giancarlo grazie Giancarlo di tutti i consigli che mi hai dato grazie di avermi accolto in azienda nel modo in cui ha fatto mi sto un po' commovendo no scherzo dai un pochino appena appena mi fa sempre piacere ricevere questi regali avere a che fare con persone che con persone che si può parlare si può crescere si può si possono capire tante cose e sicuramente si può migliorare e soprattutto avere lo stimolo per migliorare ragazzi non focalizzatevi sul sul lavoro che state facendo cercate di puntare sempre in alto lo stipendio è importante perché senza stipendio che non si mangia ma guardatevi cosa andrete a mettere nel cassetto perché le esperienze non hanno valore i valori che vi danno le persone non hanno valore sono inquantificabili non potete acquistarli e solo con l'esperienza riuscirete ad acquisirli ed è la cosa più bella grazie a tutti del regalo vi mando un grosso bacio ho voluto fare questo video perché mi sembrava assolutamente doveroso e anzi ne farei dieci di video così perché mi piace davvero tanto fare dei video dove sono iper motivato e niente io vi ringrazio non nego che prima sono un po' commosso e niente vi lancio un grosso saluto di nuovo credo che sia il quinto e ciao ciao ma non addio ci vedremo presto bye bye bye